No, 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 no! Dov'è la pittoria? Le borga la chioma La ma di Roma Di Roma Parabom, parabom, parabom Fratelli d'Italia dai dai non lo ricordo non lo ricordo 5 anni prima non ci siamo anche noi abbiamo poi più a fine prima che fossi vicino a lui faccia dura, faccia dura dai La personale La personale Scopoli Per fare Grazie per la visione 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 Grazie per la visione